Il governo Macron ha l'angolo in una crisi che non sembra mai finire, il popolo in rivolta, succede di tutto e come se non bastasse, il Parlamento è stato costretto a reintegrare medici e sanitari sospesi per l'obbligazione vaccinale. Ma non solo, ha provato con un trucco semantico a sospendere l'obbligazione vaccinale, ma il Parlamento stesso gli ha detto no. Non aveva la maggioranza per votare la sospensione, ma si è trovata, pensate un po' la maggioranza per votare l'abrogazione della legge. Quindi ufficialmente da oggi non c'è più nessuna legge che obbliga in nessun modo la vaccinazione anti covid-19.